Ragazzi come vedete là in alto c'è una mega cassa da prendere e io ora ti registro ovviamente il video perchè la voglio prendere Scusami, l'avevi detto tu però che lo dovevo fare L'avevi detto tu, non è vero, l'avevi detto che mi venavi, non che dovevo fare Scusami però Ragazzi per chi non sa Comunque ragazzi Ragazzi per chi non sa